Ciao a tutti, scopriamo insieme la nuova applicazione di Vodafone Lab per iPhone e iPod Touch. Per prima cosa colleghiamoci all'App Store. Cerchiamo Vodafone Lab e scarichiamolo. L'applicazione è gratuita ed è disponibile per tutti, clienti Vodafone e non. Ecco che l'ampolla rossa è comparsa sul nostro display. Clicchiamo. L'applicazione del Lab offre tutte le principali funzionalità del sito. Nella home page trovate un estratto del blog, le principali discussioni del forum e le voci più importanti del wiki. Vediamo in dettaglio ogni singola sezione. Il blog è la voce di Vodafone. Qui dentro trovate tutte le news su Vodafone e molto altro ancora. Hightech, internet, comunicazione, nuovi linguaggi e stili di vita. Nel forum c'è la voce dei clienti. Questo è lo spazio dove potete esprimere bisogni, opinioni e idee. Qui trovate il supporto sui prodotti e servizi Vodafone e potete dialogare con tutti gli altri utenti. Il wiki è l'archivio dinamico e collaborativo della community. Qui dentro potete soddisfare le vostre curiosità trovando suggerimenti, definizioni e soluzioni proposte dai labbers. L'accesso in solo lettura all'applicazione è totalmente libero. Se invece volete lasciare commenti sul blog o interagire sul forum dovete effettuare il login inserendo username e password del sito Vodafone. Nell'account visualizzate tutte le vostre informazioni personali, il profilo, le foto che avete caricato sul lab e le amicizie che avete estretto all'interno della community. Ciao a tutti e alla prossima novità! Ciao a tutti!